Benvenuti alla 67esima parte di Final Fantasy Tactics Advance E si, si è sbloccata una nuova missione, Rosa Desertica Che per fortuna non è nel Jacked Per mia fortuna Disponibile per 15 giorni? Quindi se non ci arrivo in 15 giorni scade? Wow, è poco Beh, qui se non trovo nessuno che mi dà fastidio Ecco Appunto Togliti Grazie, ora scompari Scompari E ci hai provato Vado di qua, non venire Ok, è scomparsa Sette giorni, wow Ci ho messo più della metà L'Osa Desertica, bene? Mostri, mostri dappertutto? Neville non c'è, mi sa No, non c'è E Yankee forse che non c'è Che l'ho spedito in missione Sì, è Yankee che non c'è Bene, iniziamo L'Oasi, avanti Dobbiamo giusto passare oltre questo ostacolo Lo si, un mare di mostri Niente di che Vabbè, saranno abbastanza deboli Forza, fatevi sotto Prima però Pugnali, accerchiamento, magia color Magia color, lato Yano Eccora, è tutto più semplice Fuck, non ci arrivo con questo Però Il salto ha più raggio d'azione Fa chi un ragno? Beh, ragno Diciamo ragno Ha sei zampe Quindi, non lo so Teoricamente non è un ragno È una formica gigante? Non mi ricordo nemmeno quante zampe hanno le formiche Sei, forse Però è il sedere di un ragno What the fuck? Perché sto pensando a ste cose? È l'ora È abbastanza tardi Ok Dai, provaci Dai Ok Un colpo in meno Un altro e questo dovrebbe morire Sono tutti abbastanza forti Nel senso, hanno tanta vita E se non sbaglio Le fate possono curare È un problema Devo eliminarla Eliminarla alla prima occasione Ok Nafsha Ok, Nafsha mi sta per attaccare O attacca Neville O forse No, Neville Ce l'ho visto giusto Beh, si è avvicinato Quindi posso dargli il colpo di grazia Però con Montblank Forse sarebbe meglio attaccare qualcun altro Qualcuno di più lontano Vediamo se ci arrivo Neh Uccido questo 75% Vai Montblank Puoi farcela Sì Un nemico in meno Chissà se torna Yankee Dopo questa missione Che era una missione in cui dovevo Dove Per farlo tornare dovevo sconfiggere 10 nemici E ho fatto un'altra missione In cui ho sconfitto 5 nemici Quindi teoricamente dopo questa Dovrebbe tornare A meno che non mi sono sbagliato Ed erano 4 e non 5 Quelli della scorsa missione Ah, qui sono comunque 6 Quindi In ogni caso tornerà 6 compreso quello morto Naturalmente E no Non è una missione che voi avete visto Perché è una missione in trasferta No, no Che sto dicendo Quella in cui ho ucciso i 4 nemici Era una missione Che ho incrociato un clan Mentre andavo in giro Quindi Di solito Cerco di non incontrarli E al massimo Me la do a gambe Nel senso che resetto Tanto salvo spesso Demensche O demenche Boh, non lo so Non so nemmeno cosa dire oggi Non so perché Mettiti qua Vediamo Maffolata d'aria Stavo pensando Se potevo usare un soffio Ma non è una buona idea Ah, resiste Però for- No Pure questo resiste Ma vabbè Ho più possibilità di colpirlo Ora Neville Se si muove Può eliminarmi la fata Sarebbe un'ottima cosa Neville Mi raccomando Non mancare Ma prima si muovono Tutti i mostri Io mi chiedo Come mai I mostri Abbiano i g-point Cioè Hanno tecniche Con cui possono usarli Non credo Oh Questa è una buona occasione Per un bel pugno A distanza Se mi va bene Ne colpisco tre Uno Due E tre E uno E l'ho Ho anche ucciso la fata Bene È andata molto meglio Di quanto mi aspettassi Tantadue Cento Riesci a eliminare Quello con cento? Vediamo Sì Vai Ok Un altro in meno Ora Montblank Dovrebbe muoversi Tra poco No Prima il mostro Vai un passo più avanti No Peccato Se andavamo un passo più avanti Potevo colpirne due Nello stesso tempo Allora Vediamo chi deve uccidere Firaiga 85 82 Questo ha più vita E quindi mori Beh Ora che ci penso Quello era più lontano Però Vabbè Fa lo stesso Dico Siccome questo era più lontano Magari potevo Colpire Quel Il ragno Con Oliver Con la Mi sono dimenticato Lini Ecco Perché mi sono dimenticato Il nome di Lini What the fuck Non me lo scordo mai È la memoria Che inizia a farci lecca Vai qua E cura Anche se non serve Lini Non ci arrivi Eh Peccato Mettiti qua Eh Non lo so Fatti un barbecue Oh shit Un tacchino Che fa un barbecue Non credo Sia una bella cosa Beh Potrebbe fare Verdure Grigliate 165 77 Voglio vedere Cosa fa più danno Se è l'attacco normale O La folata d'aria La folata d'aria E allora Mettiti più lontano Magari Colpiscilo Mi raccomando Chi tocca? Oh Al mostro Ah Stai andando a rompere Le scatole Lini Lascialo Lasciagli fare La sua Verdura Grigliata The fuck Sti mostri Voleva Avvelenargli La cena Grazie Giudice Mi ha appena salvato La vita Fidati Ma tanto Ops Dicevo Ma tanto Ti ho già rubato La giuba Quindi va bene Da qui Posso colpirlo Dai Folata d'aria Ce la fa Ce la fa Sì ce la fa Se lo colpisce Dai Puoi farcela Ok È rimasto solo uno E verrà ucciso da Neville Vai Ok Missione conclusa C'è una sorgente L'oasi Bene Sono contento Che l'abbiamo trovata Non si sblocca Un altro Jagd Vero Non mi ricordo Come si sblocca Il terzo Mi sembra Pure facendo Una missione Ah no Mi sono ricordato Come si sblocca E con un ricercato Se non ricordo male Troppi oggetti Ok Posso buttare questa Chi è? Evolt No grazie Oh Ed è tornato Armatura materia Questa può essere buona Oh Di nuovo Troppi oggetti Comunque Comunque Questa era la Sessantasettesima parte Di Final Fantasy Tactics Advance E ci vediamo con la prossima Con la prossima missione Ciao a tutti